Le regioni avendo competenze in materia sanitaria hanno il compito del controllo dei pasti soprattutto nelle mese scolastiche e poi hanno compiti di prevenzione e qui c'è sicuramente uno spazio enorme che in parte è stato utilizzato e che bisogna ampliare in modo che venga fornito ai ragazzi un cibo adatto che non crei i problemi della salute successivamente, basta vedere i dati sull'obesità in Piemonte e anche dei bambini piccoli e qui c'è stata una crescita negli anni che per la verità si è ridotta noi come Regione Piemonte siamo pensati meglio rispetto alla media italiana però c'è un grande lavoro, è chiaro che l'obesità è un problema serio che può creare complicazioni andando avanti quindi si tratta, come abbiamo stabilito nei nostri piani di prevenzione, di dare suggerimenti e indicazioni precise alle mese scolastiche, alle scuole, c'è anche un accordo con il Proletto dell'Opere Pubblica e anche con il Ministero, in modo che le mese forniscono un cibo adeguato in base all'età in base evidentemente anche ai consumi energetici e per far questo è necessario anche un cibo di qualità io credo che qui c'è uno spazio ancora da utilizzare come quello dell'utilizzo dei prodotti locali che normalmente viene trascurato invece credo che sia una strada da proseguire con maggiore determinazione rispetto al passato perfetto, grazie mille grazie